Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano la cronaca e la triste notizia dell'annuncio ufficiale della morte della giovane Fabrizia Di Lorenzo che ha perso la vita nell'attentato di Berlino. La conferma è arrivata dalla Germania dopo il test del DNA sui familiari ed è stata diffusa dal Ministero degli Esteri, il servizio di Alfredo Primante. In molti in queste ore stanno accostando la tragica fine di Fabrizia Di Lorenzo a quella di Giulio Regeni, due giovani italiani emigrati all'estero per cercare fortuna ma rimasti coinvolti in efferati fatti di cronaca. Al pari del ricercatore italiano ucciso in Egitto, anche la 31enne sul Monesi aveva vissuto il sogno dell'integrazione, questa volta però nel cuore dell'Europa, in una Berlino multietnica e culturalmente in fermento. Il destino però ha scoperto le sue carte in maniera drammatica. A nulla è valsa la speranza o Ravana che quel corpo recuperato assieme alle altri 11, lasciati sul campo dal camion della morte guidato dal 24enne tunisino Anis Amri, su cui pendi un mandato di arresto internazionale non fosse quello dell'Abruzzese. Il test del DNA però, a cui i familiari si sono sottoposti dopo essere arrivati in Germania, purtroppo non ha lasciato scampo. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina, poco prima delle 12.50, quando il ministro degli esteri Angelino Alfano, in una nota, ha annunciato la morte della ragazza. Sono affettuosamente vicino alla famiglia e ai suoi cari, condividendone l'immenso dolore, ha dichiarato il titolare della Farnesina, messaggio a cui fa eco quello del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha ricordato come, ancora una volta, una nostra giovane connazionale all'estero si è rimasta vittima della insensata ed esecrabile violenza del terrorismo. L'Italia ricorda Fabrizia Di Lorenzo, cittadina esemplare uccisa dai terroristi, il paese si unisce commosso al dolore della famiglia, e quello che ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, unendosi al cordoglio del mondo politico ed istituzionale. Accanto al lutto, però, non si placano le polemiche. Da un lato, l'uscita infelice sui cervelli in fuga del ministro del lavoro Giuliano Poletti, dall'altro, le critiche all'ex ministro degli interni Alfano, perché Amri sarebbe partito dall'Italia, dove ha scontato anche quattro anni di carcere. Un ragazzo seguito dai servizi, che potrebbe essersi radicalizzato proprio dentro le sbarre. Sulla testa di Amri c'è una taglia da 100.000 euro per chiunque riesca a fornire notizie utili alla cattura. Le ricerche si estendono in tutta Europa, mentre Sulmona attende di riabbracciare, per l'ultima volta, la sua Fabrizia. E tra i tanti messaggi di cordoglio c'è quello del presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. La follia omicida del terrorismo ha colpito Berlino, toccando anche l'Abruzzo. E oggi piangiamo la scomparsa di una giovane di Sulmona. Il sorriso radioso di Fabrizia Di Lorenzo è la risposta più bella a chi ha la mente devastata dall'odio. Quel sorriso vivrà per sempre nelle foto e nei ricordi di chi l'ha conosciuta. L'odio partorito da una mente brutta è destinato all'oblio del tempo, alla famiglia di Fabrizia e a quanti le hanno voluto bene. L'Abruzzo si stringe commosso. Questa è terra feconda di amore. Il terrorismo non passerà così. Dunque il presidente della regione D'Alfonso ha inteso ricordare la sfortunata Fabrizia Di Lorenzo. E ora cambiamo pagina. Solo ora il governo regionale si accorge che i tribunali cosiddetti minori rischiano la chiusura e convoca un'inutile riunione per gettare solo fumo e il duro attacco del parlamentare di Forza Italia Fabrizio Di Stefano che critica la riunione di qualche giorno fa in regione. Elisa Leuzzo. L'unica proposta percorribile per salvare i tribunali minori sarebbe stata quella di approvare l'emendamento che nel novembre 2015 è stato presentato nella legge di stabilità successivamente bocciato. Lo afferma l'onorevole Fabrizio Di Stefano dopo l'incontro svoltosi a Pescara sulle circoscrizioni giudiziarie cosiddette minori dell'Abruzzo. Io contesto l'utilità di quella riunione dove non è uscito nulla e dove si è chiusa la stalla quando i boi sono quasi già scappati perché la legge è Monti del 2014 e oggi si dice che a due anni e mezzo di distanza che è il Parlamento che deve intervenire io dico a questo centrosinistra che si assuma tutte le sue responsabilità perché mai come in questo momento il settore giustizia l'Abruzzo è o dovrebbe essere fortemente rappresentato avendo un sottosegretario a cui aspico la riconferma è il vicepresidente del CSM. Ruoli importanti e quindi li facessero valere. Ma se dicono, come hanno detto, che deve essere il Parlamento intervenire allora io dico loro che per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda sono già intervenuto. Nell'ultima legge di stabilità io ho proposto un emendamento che andava nel senso del mantenimento dei tribunali minori come poiché nel decreto Monti si prevede una deroga una deroga per quelle realtà i cui comuni o regioni si accollassero i costi dei fitti della manutenzione delle strutture e del personale. Ecco io toglievo i costi del personale che comunque essendo personale ministeriale comunque resterebbero a carico dello Stato anche in caso di soppressione di questi enti e di queste strutture e lasciavo ai comuni e alle entità regionali i costi giustamente di locazione e manutenzione. E all'Aquila è stato sequestrato il capannone in cui l'azienda Accord Phoenix effettuava il riciclo di materiali elettronici. Tre, gli avvisi di garanzia. Giorgio Alessandri. Sicilia, il capannone dell'Accord Phoenix l'azienda nata dopo il terremoto per la raccolta e il riciclaggio di materiali elettronici. Ad apporri la Guardia di Finanza al termine di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. Stando a quanto si apprende nello stabilimento sarebbero stati stoccati rifiuti pericolosi e non per complessivi 105.000 kg di scarti di materiale elettronico seppure non fossero state istruite le dovute autorizzazioni. Le fiamme gialle hanno contestato anche le localizzazioni degli impianti che sono stati acquistati per l'avviamento della prima linea di produzione. Nel registro degli indagati per una serie di reati ambientali sono attualmente iscritte in tre il presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale Ravi Shankar, il consigliere di amministrazione e direttore generale della stessa società Francesco Baldarelli e infine il responsabile della produzione, il danese Hans Jorgen Lundo i quali sono assistiti dagli avvocati Agnelli e Verini. Come spiegano i legali, l'azienda è pronta a porre in essere qualsiasi tipo di correzioni nelle procedure ambientali al fine di tutelare l'occupazione mentre escludono l'ipotesi che le indagini possano riguardare anche la sovvenzione pubblica di 10 milioni di euro assegnata all'accordo Phoenix, presa dal 4% dei fondi per la ricostruzione post-terremoto destinati al rilancio economico e produttivo della città assegnata tramite un accordo con l'Agenzia Invitalia. Proprio in virtù di questo accordo, l'accordo Phoenix si era impegnata a riassumere 128 persone in larga parte dipendenti fuoriusciti dalle crisi industriali delle aziende Finmec, Fida, Intercompel e P.I.S. Service ma i sindagati hanno denunciato tra essi troppe consulenze o profili esterni e solo 9 operai riassorbiti. Questa mattina a Pescara è stata presentata la intesa tra il comune di Pescara l'ACA e la ERSI per l'esecuzione dei lavori necessari a migliorare l'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione in attesa dell'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo depuratore. Sindaco, quali sono i dettagli di questa intesa? Per favorire ogni azione possibile per prevenire gli effetti nefasti dell'inquinamento noi facciamo un protocollo di intesa con una serie di soggetti istituzionali volto ad anticipare a cura del comune di Pescara le spese di progettazione relativa ad una serie di interventi che vanno compiuti per sanare il sistema delle acque nello specifico parliamo della progettazione di una serie di vasche di laminazione si chiamano così o vasche di accumulo o vasche di prima pioggia significa costruire e immaginare delle vasche dove raccogliere l'acqua piovana che non dirà domanda in tilti il depuratore che non riesce a smaltirla al fine di prevenire gli effetti nefasti sulla balneazione un lavoro cui ci accingiamo insieme ad altri soggetti istituzionali in un'ottica di preparazione, in un'ottica di prevenzione in un'ottica anche di programmazione dell'intervento pubblico e ora la politica e ci spostiamo a Teramo SEL comunisti italiani a rifondazione comunista hanno deciso di non partecipare al voto per il prossimo rinnovo del consiglio provinciale di Teramo previsto per l'8 di gennaio un'astenzione per dire no al meccanismo elettivo delle province che prevede secondo questi partiti decisioni prese sulla testa e sulla pelle dei cittadini Tania Bonici Castelli L'8 gennaio prossimo si voterà per rinnovare il consiglio provinciale di Teramo tre sono le liste presentate due ricollegabili al presidente di centro-sinistra Renzo Di Sabatino che comunque resta in carica e una di centro-destra con dentro NCD gli aventi diritto al voto sono i sindaci e i consiglieri comunali dei 47 comuni teramani c'è però chi si sfila da questa competizione come SEL, Rifondazione e Comunisti italiani che per coerenza non accettano scelte fatte sulle teste e sulla pelle dei cittadini Sinistra Italiana ha deciso di non stare con la sinistra di Di Sabatino Sinistra Italiana insieme ad altre forze, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e altre espressioni anche civiche delle varie realtà ha deciso di non partecipare a queste elezioni provinciali di secondo livello per due motivi uno del metodo e quindi proprio del come si va ad eleggere questi nuovi consiglieri provinciali tramite la riforma del Rio con una elezione di secondo livello quindi i cittadini vengono totalmente esclusi da questa vicenda mentre in passato chiaramente il momento delle elezioni provinciali era un momento alto, importante per il dibattito in tutto il territorio adesso questo ente trasformato in una sorta di consorzio un ente di secondo livello mantiene comunque però funzioni politiche però non ha la legittimità democratica, non ha il voto popolare il dato politico inoltre per Sinistra Italiana ma anche per altre forze della sinistra è che rispetto al passato, rispetto agli anni passati non c'è stata nessuna condivisione di questa progettualità politica e inoltre diverse scelte compiute dal Partito Democratico il fatto che erano di fatto anche pronte ad allearsi con l'NCD con il nuovo centrodestra per noi era tutta una situazione diciamo inaccettabile quindi concretamente i vostri consiglieri comunali non voteranno? i nostri consiglieri comunali non voteranno nessuna lista in campo quindi la vostra stenzione però potrebbe sfavorire le liste di Sabatino e favorire le liste del centrodestra? sì ma non è un nostro problema perché è un problema che si sarebbe magari dovuto porre il Partito Democratico che al contrario delle altre volte questa volta non ha cercato l'alleanza con la sinistra stamani in Prefettura Pescara si è svolta la cerimonia di consegna delle onoreficenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana conferimento effettuato dal Prefetto Francesco Provolo nel contesto il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco ha effettuato un bilancio dell'attività svolta dall'ente nonostante le difficoltà di natura economica dal cavallerato alla commenda queste le onoreficenze al merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato consegnate dal Prefetto di Pescara Francesco Provolo nel corso di una cerimonia nel Salone del Palazzo del Governo alla presenza di autorità civili e militari per noi è un momento importante perché si premiano le persone che hanno nella nostra società, nel nostro mondo fatto qualcosa di buono e ce ne sono molte però quelle che più si rappresentano che vengono ovviamente ad essere vicino alle istituzioni vengono premiate e ne ho approfittato per chiedere a tutti i rappresentanti delle istituzioni della provincia di stare insieme a loro di scambiarci gli auguri e cercare anche di rappresentare la situazione della provincia che in questo momento ha dei problemi sicuramente dal punto di vista dell'istituzione dobbiamo fare molto di più ma questo è possibile anche grazie alle risorse che evidentemente devono essere più importanti e soprattutto certe noi come provincia di Pescara in questi due anni di attività di presidenza abbiamo lavorato proprio per mettere in cantiere tutte le opere possibili abbiamo cantieri per circa 20 milioni di euro in fase di realizzazione e abbiamo 70 milioni di euro che nel 2017 dovranno diventare in qualche misura progetto, esecutivo e quindi opere da realizzare è chiaro che il sistema economico si basa esattamente su un impulso che deve essere quello delle attività di questo tipo quindi nell'ambito delle costruzioni come è sempre stato in Italia e anche da noi e quindi noi faremo del nostro meglio per accelerare al massimo le procedure e poi dobbiamo rimettere in gioco una sintonia con il sistema delle imprese ma soprattutto con i colleghi sindaci che hanno bisogno anche loro di essere supportati per rintracciare eventualmente le risorse che possono consentire anche nei loro comuni di far partire i cantieri importanti per il nostro territorio provinciale Terminerà a primavera l'intervento di restauro sulla bolla di Celestino V i dettagli nel servizio La bolla del perdono sarà oggetto di un intervento di restauro conservativo da parte dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico Libraio Il documento emanato da Papa Celestino V all'indomani della sua incoronazione il 29 agosto 1294 elargisce l'indulgenza penaria a tutti coloro che sinceramente pentiti e confessati si recano nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio dai vesperi del 28 agosto a quelli del 29 ed alla base della celebrazione della perdonanza celestiniana Fino al 6 aprile 2009 è stata conservata nella Torre Civica di Palazzo Margherita sede della Residenza Municipale ed in seguito custodita all'interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza Come hanno spiegato gli esperti dell'Istituto che hanno effettuato un sopralluogo ricognitivo nel mese di marzo la perdita del contenuto d'acqua della pergamena richiederà un intervento di idratazione ed un successivo tensionamento per consentire di mantenere la planarità del documento Anche l'inchiostro si presenta attenuato a causa dell'indebolimento del legante che lo fissa al foglio La pergamena, una volta reidratata e tensionata verrà posizionata su un apposito supporto dotato di caratteristiche che ne garantiranno un'adeguata conservazione contrastando la tipica tendenza della pergamena a muoversi adattandosi alle variazioni di temperatura e di umidità ed evitando così possibili contrazioni il restauro dovrebbe essere ultimato in primavera Si tratta, ha spiegato il Sindaco Celente di un documento antichissimo e prezioso che pertanto necessita di attenzioni, interventi e ritocchi un bene artistico e documentale che riveste un'importanza eccezionale anche sotto il profilo religioso e spirituale Nella prossima edizione della perdonanza celestiniana il nostro giubileo potremo dunque presentare una bolla restaurata secondo le tecniche più efficaci e innovativi migliorandone la conservazione e la leggibilità Il più piccolo centro della provincia di Chieti Monte Lapiano da pochi giorni può contare sulla rete veloce un servizio voluto dal primo cittadino per restare al passo coi tempi Monte Lapiano, il paese più piccolo della provincia di Chieti sarà connesso alla rete grazie all'Interfibra e al Red Free Social Wi-Fi Sindaco Arturo Scopino quali saranno i benefici per il suo comune? Si, Monte Lapiano è una piccola realtà come diceva lei e Bocanzi è una realtà soprattutto di persone anziane abbiamo voluto potenziare questo servizio è un'occasione che diamo a queste persone ma non solo ai turisti e ai tanti cittadini che rientrano in estate di poter accedere gratuitamente a questi servizi e quindi di essere tecnologicamente al passo coi tempi Può essere anche un buon utilizzo per essere sempre in contatto con i loro parenti o i loro figli che si trovano all'estero? Si, questo era praticamente un gap negativo che noi scontavamo come comunità io in passato ho portato avanti un'iniziativa ho donato, incomodato a tutti gli anziani un computer portatile ho garantito loro una certa formazione nell'utilizzo degli stessi e mancava un collegamento che avesse dato la possibilità di connettersi anche con videochiamati con i familiari e con i parenti grazie a questo servizio oggi abbiamo superato questa negatività possiamo essere competitivi come gli altri comuni in passato ben due bandi del Ministero delle Infrastrutture erano determinati in ordine al tempo cioè nel click day si partivano in determinata oraria con l'invio dei documenti e naturalmente vivendo in questo contesto di montagna poco calibrato sotto il profilo strutturale non siamo mai riusciti a cogliere questi finanziamenti questa è un'occasione una possibilità che ci mette alla pare con i comuni della costa ma soprattutto con i comuni che vivono a ridosso delle grandi riti urbane penso a Milano e penso a Roma eccetera eccetera un piccolo comune che può diventare grande che ambisce a fare progetti e iniziative a favore della propria comunità quest'anno il nono grande torneo di Stu antico gioco di società si giocherà non solo a Montorio al Vomano ma anche negli alberghi della costa terramana l'iniziativa è dell'associazione il Colle e il Solleone ed ha come finalità quella di coinvolgere le famiglie montoriesi sfollate e alloggiate nelle strutture ricettive di Alba Adriatica e Roseto la finalissima del torneo è prevista per il prossimo 7 di gennaio si rinnova a Montorio l'appuntamento con la nona edizione del grande torneo di Stu promosso dall'associazione culturale il Colle e il Solleone con il patrocinio del comune di Montorio e del consorzio BIM di Teramo una manifestazione che ha un importante valore di aggregazione e condivisione sociale per tutta la comunità montoriese e per favorire la partecipazione dei numerosi nuclei familiari evacuati dal centro storico di Montorio e alloggiati presso le strutture alberghiere della costa in particolare a Roseto e Alba Adriatica quest'anno si è deciso di trasferire i tavoli dello Stu anche in queste località ma che cos'è in che cosa consiste questo mitico gioco dello Stu? Allora lo Stu innanzitutto è un gioco molto antico addirittura troviamo tracce nel 1200, 1300 poi si è vero voluto negli anni ed è essenzialmente un gioco di società ma la bellezza del gioco sta nel fatto che si sta veramente tutti insieme e con ilarità ci si diverte molto perché ci sono tanti sfutto si riesce a passare una bella serata Voi addirittura adesso ne fate un torneo anzi questa è la nona edizione Sì, noi abbiamo iniziato nel 2008 a fare questa cosa iniziamo in piazza addirittura con carte figurate poi nel tempo siccome di questo periodo normalmente fa freddo abbiamo deciso di spostarci dentro i locali Giocare a Stu per divertirsi ma anche per raccogliere fondi a favore dei più deboli grazie ai proventi realizzati dal torneo dello scorso anno l'associazione ha consegnato tre defibrillatori alla cruce bianca Onlus di Montorio posizionati in altrettanti punti strategici del territorio comunale quest'anno partecipiamo a un progetto europeo nati per leggere che è come finalità la divulgazione della lettura nei ragazzi dell'età prescolare infine si dice che le carte dello Stu indichino il destino di una persona che può tenerle o cambiarle questo è il leone che da noi chiamiamo l'UFU è la carta peggiore del gioco è una carta che quando viene presa ovviamente tutti cercano di liberarsene ed ora lo sport si è giocata questa sera la partita tra Palermo e Pescara uno scontro diretto allo stadio Renzo Barbera di Palermo vediamo come è andata nelle parole dei protagonisti non l'abbiamo mai perse io quantomeno non l'ho mai persa i ragazzi non l'hanno mai persa i momenti difficili sono all'ordine del giorno nel calcio e nessuno ci può impedire di inseguire il nostro obiettivo nella stampa, nei tifosi, nessuno noi crediamo in quello che facciamo sbagliamo, commettiamo errori ma questo fa parte della vita del calcio quindi il ritiro è stato per fare gruppo per stare insieme per lavorare meglio sugli errori fatti nel calcio si fa questo quando commetti degli errori l'unica cosa da fare è lavorare sul campo per cercare di eliminarli e la seconda cosa da fare è sempre dare il massimo noi l'abbiamo sempre fatto l'abbiamo sempre dato a volte abbiamo spesso abbiamo anzi quasi sempre abbiamo perso abbiamo fatto qualche punto ma dando sempre il massimo e quindi quando tu dai il massimo sei sereno noi siamo sempre stati sereni poi è ovvio che i risultati negativi comportano un abbattimento dell'autostima e quant'altro ma l'unica maniera per andare avanti è quella di creare nel lavoro in cui si fa e cercare di raggiungere i propri obiettivi noi ce l'abbiamo ben chiaro in mente e andiamo avanti per la nostra strada io sono molto contento oggi in generale per una sola cosa che i ragazzi hanno dato il 110% io gli avevo chiesto questo quando tu sai di dare il massimo un allenatore è contento poi noi siamo consci nei nostri limiti dei nostri pregi a me interessa che i ragazzi gli diano tutto come io cerco di dare tutto settimanalmente sbagliando molte volte sbagliando ma purtroppo l'errore nel calcio è l'ordine del giorno la perfezione non esiste si raggiungono gli obiettivi cercando di sbagliare il meno possibile prima di chiudere la pagina sulla Serie A un aggiornamento sul caso Sassuolo perché il ricorso presentato dalla società emiliana verso la Federcalcio e il Pescara per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale che ha inflitto lo 0-3 a Tavolino al Sassuolo sarà discusso il prossimo 9 di gennaio per quella data infatti il presidente della prima sezione del collegio di garanzia dello sport Mario Sanino ha fissato la prossima sessione di udienze ed ora scendiamo in Lega Pro domani le gare della prima giornata di ritorno il Teramo ospiterà al Bonolis il Lumezzane gara molto importante per iniziare con il piede giusto la seconda parte della stagione dopo una deludente prima parte mancheranno nel Teramo gli infortunati Jefferson e Scipioni diversi i nodi di formazione da sciogliere per il tecnico Lamberto Zauli che oggi ha presentato così in conferenza stampa l'impegno di domani se vogliamo evitare i play-out dobbiamo fare sicuramente meglio di quello che è stato fatto nel giugno d'andata quindi è il primissimo obiettivo quello che mi preme è sottolineare il fatto che venerdì e domani è una partita molto importante perché nel giugno di torno più partite passano e meno possibilità di recuperare anche se ancora ne mancano tantissime però sicuramente non può essere partite considerate l'ultima spiaggia non ti salvi domani non retrocedi domani però tutti noi dentro lo spogliatoio sappiamo che è una tappa molto importante beh da quando sono rientrato sicuramente ho avuto grande disponibilità da parte di tutti la squadra sono molto molto dentro hanno voglia di uscire da questa situazione quindi ho avuto veramente la disponibilità di tutti i giocatori quindi prescindere dall'infortunato chiaramente quindi anche la settimana scorsa avevo visto grande voglia di fare una buona partita poi le difficoltà della partita sono davanti agli occhi di tutti insomma incontriamo sempre squadre importanti poi soprattutto se noi dobbiamo limare assolutamente errori che ci condizionano un po' tutto l'andamento della partita perché anche questa con la Friar Pisolò è vero che abbiamo fatto una partita l'abbiamo riacciuffata alla fine abbiamo commesso errori abbiamo fatti però è anche vero che abbiamo concesso le palle gole le palle che decidono un po' la partita in maniera un po' troppo banale agli avversari e quindi con questa qualità che c'è in questo campionato sicuramente certi errori non ti permettono di fare risultato io mi aspetto un termo che abbia lo spirito di voler andare a conquistare la palla mi hanno insegnato fin quando giocavo che le pre partite si preparano quando è il non possesso palla che vedi lo spirito di squadra non quando ce l'hai e quindi è quello lo spirito è quella la concentrazione che pretendo da tutti se abbiamo tanti giocatori che hanno la voglia di andare a conquistare la palla con la famosa rabbia agonistica che fa la differenza nelle squadre sicuramente ci giocheremo le nostre partite dentro questo che è obbligatorio averlo c'è che ogni giocatore deve cercare di migliorare la propria prestazione ma non nel termo in generale quindi questo me lo aspetto singolarmente pretendo che ogni giocatore dentro di sé abbia quell'ambizione di migliorare se stesso e poi il sottoscritto all'obbligo di far sì che lo spirito che abbiamo detto fino adesso sia dominante per cercare di fare risultati Nell'ultimo servizio parliamo di pallanuoto dunque cambiamo disciplina e lo facciamo con colui che è stato considerato il maradona della disciplina il maradona della pallanuoto ha giocato per tantissimi anni a Pescara e a Pescara è legatissimo ovvero Manel Estiarte che è tornato proprio nei giorni scorsi in città e alla piscina Lenaidi ha incontrato i più giovani per parlare di sport e di quella che è stata la sua esperienza di atleta vediamo Allora Estiarte l'entusiasmo non manca mai qui a Pescara quando si parla di pallanuoto quando si parla con te quando si parla con i ragazzi più giovani è bello che ci sia entusiasmo a Pescara nella pallanuoto io penso che non si è perso mai ci sono diversi momenti periodi però Abruzzo Pescara è planotistica in fondo c'è molta tradizione ci sono stati dei momenti straordinari e adesso si sta cercando di riorganizzare nel vivaio e sono sicuro che si farà del bene A questi ragazzi hai parlato di pallanuoto hai parlato di sport ma hai parlato soprattutto di valori e sei riuscito a tenerli incollati per 35 minuti buoni ci apparlo come un vecchietto capito i valori ma è vero alla fine ti rimane questo quando passa il tempo guardi un po' indietro dai molto valore ai momenti vissuti nel percorso non tanto al traguardo finale l'Olimpiada ha vinto il campionato del mondo ha vinto anche se me lo tengo stretto però quella strada ripeto quei momenti vissuti con i compagni nella società nella piscina dove hai cresciuto nella piscina dove poi hai competuto con i tuoi compagni ripeto è la cosa che gli dai più importanza quello che hai imparato in questo percorso tutti questi valori di umiltà di rispetto di gruppo di sacrificio di disciplina di lavoro eccetera sono le cose che poi ti servono nella vita ti aiutano almeno la penso così adesso passa il tempo e tu valorizzi tu ti rendi conti dove sta dove sta la vera essenza di una vita sta nella famiglia sta nei tuoi figli in tua moglie la gente che ti vuole bene la gente che voglio bene cioè che loro stiano bene per questo priorità assoluto la felicità dei miei ma pia è scontato senza di dibattito era questo l'ultimo servizio del TG6 che tornerà domani con la prima edizione delle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie per l'attenzione